ciao a tutti ora tenterò di distruggere la bici più di prima finalmente è arrivato è un po' duretto ok ma ce l'abbiamo fatta qua c'è la lampadina da cambiare metto la lampadina e prego di non far cazzate mi hanno detto che è un po' dura ma si dovrebbe vivere così e poi si dovrebbe spostare questa levetta credo che è durissima infatti spero di aver fatto un buon lavoro dovrebbe essere nella posizione che c'era dobbiamo provarla se si stacca tutto ho fatto una stronzata speriamo che la dinamo funzioni ho sagrinato la dinamo comunque questi sono i resti della nostra operazione ah non fate queste cose ragazze come ho fatto io con le unghie perché vedete diciamo così il colore va un po' mio ciao a tutti e ovviamente anche oggi ho fatto quello che non dovevo fare bacioni